e allora intanto buonasera a tutti grazie per per l'essere presenti a questo tentativo di fare anche perché sarò abbastanza vincolato quindi non so se riesco a far tutto quello che vorrei fare però da come vedete vorrei combinare provare a combinare i tre elementi della prima parte del titolo che corrispondono a un movimento interno a materiali chiamati epigrafi che vi che vi mostrerò che sono imputabili a questo questo forse sconosciuto per molti questo ascioca questi ditti di ascioca che sono appunto oggetto recente recentissimo vedete subito di una ripresa appena uscita nell'estate nel 2023 è appena uscita una nuova traduzione degli editti di ascioca curata da patrico livell che è un sanscritista che ha svolto una lunga ricerca attorno alla figura di ascioca negli anni precedenti e poi si è risolto insieme a un collega che appunto è un sanscritista specializzato in sanscrito vedico che è la testimonianza più antica di questa lingua che abbiamo e insieme hanno appunto ridisposto una traduzione degli editti di ascioca questa traduzione appunto è l'effetto di una tradizione di studi classici che restituendo all'attualità un testo rivisitato sia dal punto di vista testimoniale quindi una nuova edizione del testo e una nuova interpretazione del testo parla all'attualità soprattutto indiana tenete conto che ascioca una figura di rilievo notevolissimo perché ancora oggi nella nello stemma il che sta nel campo centrale della bandiera dell'india ricordo sempre a tutti che l'india ha superato nell'estate scorsa da un punto di vista demografico la cina quindi siamo arrivati a un miliardo e 480 milioni di abitanti i miei amici di calcutta nell'estate mi mandarono un email informandomi del essere giunti primi mi dissero quindi c'è evidentemente una competizione nella nella sovra popolazione che in questo momento l'india sta dominando ecco nel paese di cui la bandiera porta l'effigie della ruota del dharma la ruota del dharma che sta nella bandiera a partire dal 47 1947 l'anno dell'indipendenza dalla dominazione coloniale britannica viene esibita come il simbolo della nazione quindi c'è un'attualità nel presentare un antico materiale classico e che appunto suscita una serie di reazioni quindi in questo senso la ruota il dharma e l'impero sono i tre temi con cui vorrei portarvi intorno a questa vicenda e già il descrittore che vedete qui è quello che trovate nella nella presentazione del mio discorso lo salto e vado invece direttamente a questo piccolo prologo che faccio per dare ragione di come la classicità così come noi la studiamo oggi classicisti in questo caso sono uno storico di regioni dell'india sanscritista che sta dicendo il perché il perché non il cosa ma il perché fa il lavoro che fa quindi in questo senso lo faccio in gloria dell'antica tradizione della disputatio quindi vi vorrei invitare a una disputa e in questo senso questo testo ve lo leggo pedissequamente è un testo che ho scritto io ma ci tengo a leggervelo pedissequamente quindi essendo io stipendialmente un retore cioè un professionista dell'eloquio potrei qui bastarmi nel fungere dal replicante del ruolo istituito che sono chiamato a rivestire il quale mi vuole atto a mostrare il come si dice qualcosa quindi io sarei un retore percepisco uno stipendio per svolgere un'attività che si potrebbe esaurire nel compito del retore cioè del colui che mostra come si dice qualcosa assecondando l'abito potrei restare del tutto indifferente all'occasione qui generosamente concessami di poter aggiungere a ciò anche il surplus di una provocazione preferendo invece l'omettere di curarmi del cosa dire risolvendomi con il fare il mio dovere mentre c'è un subentrare di un ruolo che va verso diciamo la mestizia e la condiscendenza del mandato che mi fa preferire mi potrebbe far preferire di restare sul come si dice qualcosa a quel punto diffondendomi nell'esercizio del puro puro atto fonatorio locutorio potrei sprecare tutto il mio fiato fingendomi giusto di nobili intenti imparziale e perfino un po schivo al profittare dell'occasione data questa durante la quale a me piacendo avrei potuto pronunciare un ben più ficcante verbo e così dar voce a un atto illocutorio non più locutorio ma illocutorio quindi maggiormente transitivo che mirasse a essere inquietante e arrivasse a essere no ambisse a essere per locutorio e fin anche persecutorio ma poiché come tutti noto è l'occasione che fa l'uomo ladro io non resisto in quanto uomo e cedo volentieri al fatto di fare il furto del vostro tempo per lanciarvi in modo spero inquietante una mia sentita provocazione uso provocazione qui mutuando dal sanscrito la parola pracarana che è un antico termine che viene usato per indicare i grossi tomi o le grosse porzioni di un trattato che recitano no pracarana che non è una titolatura diciamo biblioteconomica ma è un indicatore che sta dicendo al lettore questo testo ti provoca qualcosa quindi c'è un'istanza provocatoria nell'istanza enunciante del testo quindi vorrei una mia sentita provocazione la quale avrà come forma avrà la forma di una comparazione vi metto tre parole allineate e vorrei suggerirvi che queste hanno molto a che fare non con la classicità remota da cui provengono ma con l'attualità incognita che abbiamo sotto i nostri occhi quindi la relazione che vorrei stabilire e la provocazione appunto è un comparare il classico che mi pertiene per professione con un attuale che invece mi pertiene per forma di vita uso comparazione così come lo intende jeanluc nancy quando appunto mettendosi a discutere su che cos'è la comparazione tra simili o tra diversi la differenza la somiglianza all'oriente all'occidente stiamo parlando di questo lui dice la comparazione sarebbe meglio se fosse svolta in un clima di mandato di comparizione cioè essere chiamati a render conto di qualcosa da qualcuno senza che la propria volontà ne sia già portatrice non la comparazione il comparire a un tribunale e questi sono diciamo i quesiti a cui voi vi dovreste esporre se ora inizio con la provocazione voi direte perché mai dovremmo affondare gli occhi nelle remote e fosche pagine dei classici classici in senso lato latini greci arabi ebraico cinese che sono dei residui fossili di fasti passati stupendi che siano sono laggiù e perché mai dovremmo stracciarci anche noi le vesti per partecipare al bisticcio a cui votano i propri corpi politici i fedeli dell'idola decaduti oriente pro contro occidente pro contro dice l'attuale l'attuale frequentatore di una come questa non conferenza come questa perché mai dovrei spendermi macerarmi sui classici e poi addirittura entrare nel vivo della diatriba tra oriente occidente ma ci mancherebbe a ciò se non bastasse si aggiunga la palese irreperibilità della ragione per cui dovremmo ancora stare a sentir parlare un retro rimerico all'arcaico lemma impero così lontano tanto dagli occhi quanto dal cuore di noi moderni dov'è l'impero dice la doxa che tutti abitiamo che se ne tra insomma no dice il mio interlocutore a cui io sto lanciando la provocazione che se ne tra insomma i nostri giorni no questo attualismo questo presentismo no i nostri giorni sono un modo per secare un mai estinto tempo che va ai nostri giorni dal vagare raminghi tra tutti questi simulacri di assenze no ascioca il manoscritto l'editto simulacri di assenze non c'è più niente di tutto questo non c'è più l'impero di cui si parla in questi in queste opere ho fatto l'irrimediabile grazie e questa è la mia su questi tre quesiti io appunto lancio la provocazione e proverò a darvi qualche argomento per 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 darmi addosso è una disputa qualcuno non esce vivo da una disputa no quindi io vi lancio questa provocazione l'attuale agnosia collettiva circa l'inattualità di impero no imperium è frutto del comune oblio della sua imperitura attualità storica tanto a occidente quanto a oriente questa è la mia tesi quindi noi reputiamo in attuale il tema dell'impero e dei due precedenti la ruota e il dharma li reputiamo in attuali perché siamo comunemente convinti da appunto un oblio collettivo che non abbiano una loro imperitura attualità cioè sono cose del passato che sono finite e quindi ci riguardano solo ai fini meramente eh no didascalici o collezionistici no sapete tutti l'orientalistica ha 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 goduto di una pessima reputazione eh trovate tantissimi riferimenti a queste figure no chi è l'orientalista ottocentesco di fine ottocento è il collezionista di testi cioè ha sterminati repertori e ne fa un uso puramente autoreferenziale no questa questa vulgata dell'orientalista è un orientalista depoliticizzato avulso al presente e che raccoglie dal passato relitti che accumula con una smania quasi ossessiva lo trovate anche riportato su un piccolo fascicolo di topolino nel 1974 che riportava la figura di un collega di Torino Oscar Botto che va a comprare la dispensa di sanscrito all'edicola e l'edicolante dice accidenti Oscar Botto che compra una dispensa di sanscrito all'edicola è solito invece non uscire mai di casa perché sta con le sue chincaglierie no quindi topolino rappresentava così negli anni settanta in italiano la figura dell'orientalista quindi pensate eh l'opinione condivisa a che punto di rappresentazione può arrivare quindi l'attuale agnosia collettiva circa l'inattualità dell'impero è frutto del comune oblio della sua imperitura attualità storica tanto a occidente quanto a oriente e in questo senso eh tre piccoli atti da ieri a oggi dell'imperium qua giù ad ovest dello ieri e dell'oggi dell'imperium laggiù ad est e il caso appunto dell'imperium del Chakravartin vedete questo termine vi darò qualche ragguaglio più avanti a scioca come esempio di un imperium attuale che ci risulta inattuale solo perché abbiamo obliato la sua imperitura attualità se state dietro a questo gioco proverò a ritornarci di continuo salto salto quello che è un'espressione dossastica cioè un'espressione che circola nell'immaginario condiviso a partire perlomeno in lingua italiana dal 1991 questo è uno scritto di Gentiloni la violenza nella religione quindi un scritto appositamente messo a tema da Gentiloni che in quegli anni ha un interesse nel focalizzare la sua attenzione sul rapporto tra religione e violenza e questa è una citazione dal suo scritto dove recita le religioni orientali in genere il buddismo in particolare a scioca sarebbe un sovrano buddista nell'immaginario condiviso la spina che collega le religioni all'energia della violenza non l'hanno mai attaccata il corsivo è mio sono sempre vedete questa contrapposizione tra mai e sempre sono sempre state pacifiche aperte agli altri alle differenze in cammino verso una verità più che nel possesso di una verità assoluta non si capisce bene se questa vulgata è conio di Gentiloni perché si potrebbe pensare che l'ha mutuata da uno scritto di pochi anni precedenti o addirittura lui è diventato l'atore di una vulgata la troviamo citata ripetutamente non è il non è il padre di questa idea che la pace regna di là no la pace regna di là dal tigri e dell'eufrate di qua dal tigri e dell'eufrate c'è solo guerra quindi il mondo sarebbe divisibile oriente occidente a partire dalla presenza e dall'assenza della violazione questo atto inquietante di cui l'umano è tanto capace e sembrerebbe essere al sicuro andare in oriente in questa rappresentazione per non incontrare il temuto avversario che è la violenza questa è una vulgata molto diffusa e che però fa fatica a confrontarsi con gli studi specialistiche degli anni più recenti come vedete per esempio il primo sulla vostra sulla vostra sinistra è un testo pubblicato da un collega di harvard e come vedete il titolo è abbastanza eloquente political violence in ancient india quindi filippo gentiloni è in difficoltà nel giustificare la sua affermazione così perentoria circa l'assenza e la presenza di guerra di qua e di là dall'eufrate e vedete si potrebbe andare avanti la letteratura da questo punto di vista è abbondante è abbondante è altrettanto abbondante anche la possibilità di immaginare invece una relazione transitiva tra questi aspetti di mondo che noi abbiamo così nel nostro immaginario separato questo è un libro bellissimo del collega federico de romanis che dopo tantissimi anni di studi su queste faccende del rapporto in particolare tra il mediterraneo e l'india e quindi il sud asia meridionale vedete indo roman paper trade il traffico di cose che premono non si è mai fermato non si è mai fermato e può essere documentato con un certo dettaglio no federico de romanis è uno specialista che ha fatto studi notevolissimi su questa ricostruzione della relazione minuta attenta che era già nota a plinio eccetera eccetera no quindi i classici hanno ben presente l'attualità di questo rapporto oriente occidente come transitivo non partitivo nel 2023 anche sul versante degli studi politologici c'è una storia politica che non ha più particolari problemi nell'abbattere le barriere moderno antico oriente occidente a partire dal tema appunto vedete comparare le il pensiero politico classico e statecraft e l'amministrazione dello stato in india e in cina stanno facendo uno studio comparato tra la politica e la storia politica cinese classica e la politica e la storia politica indiana classica quindi vedete i nostri colleghi su altri versanti sono molto disinvolti nel muoversi diversamente assai diversamente da come ci suggeriva la posizione di gentiloni uso uso queste pagine inquietanti di carl schmidt carl schmidt è un autore inquietante l'autore del nomos della terra pubblicato negli anni 50 e che tutti sanno dove va a parare e in direzione orienta il suo sguardo nomos greco è il mio dharma in sanscrito e carl schmidt qui nel suo piccolo studio sulle categorie del politico che trovate tradotto dal 91 anche in italiano scusate al 72 in italiano e dice la seguente cosa non la vedete ma io ve la posso leggere sta parlando appunto nelle categorie del politico il rapporto lui vuole mettere a fuoco il rapporto su che cos'è la relazione tra protezione e obbedienza questo principio protezione e obbedienza questo principio recito leggo carl schmidt questo principio non costituisce solo il fondamento dell'ordinamento feudale della relazione fra signore feudale e vassallo fra capo e uomo del seguito fra patrono e clientela che sono solo gli episodi più chiari e manifesti di esso in realtà dice carl schmidt non c'è nessun rapporto di sopra e sotto ordinazione nessuna legittimità o legalità razionale che prescinda dalla connessione fra protezione e obbedienza il proteggo ergo obbligo è il cogito ergo sum dello stato ed una dottrina dello stato che non sia sistematicamente consapevole di questa massima resta un frammento insufficiente obbs ha indicato come scopo principale del suo leviatano di riproporre agli occhi degli uomini la relazione mutua di protezione e obbedienza la cui inviolabile osservanza è imposta dalla natura umana così come dal diritto divino pensate a questa frase e le implicazioni che agli occhi di carl schmidt il rapporto tra proteggere qualcuno e esigere obbedienza di conseguenza ha per la storia tra virgolette globale dello stato nel titolo iniziale io vi suggerivo potremo parlare in questi termini di una storia naturale della biopolitica senza avere più particolari problemi nel distinguere un territorio e un'epoca dall'altro poiché accomunabili sotto questo principio del proteggo ergo obbligo questa è la posizione di carl schmidt che appunto a sua detta riprende una antica faccenda che è questa è la faccenda che vedeva contrapporsi lobs lo spinosa era il problema della teologia politica era il rapporto tra chi protegge e comanda e chi è protetto e serve quindi questa è una faccenda che nell'alveo del nostro immaginario europeo di caponazione dell'epoca la è addestato grande inquietudine per secoli e secoli e secoli ed è tuttora attualissima, pensate alle politiche protezionistiche che hanno delle implicazioni poi sulle obbedienza che ne consegui. Questa matrice potrebbe sembrare tutta tutta mediterranea, nel mio atto secondo vorrei passare sul versante invece del protego ergo obbligo laggiù. Questo era il protego ergo obbligo quaggiù che ancora cifra, capite, per Kashmit dire che è il cogito ergo sum dello Stato moderno è una dichiarazione abbastanza impegnativa, se ci pensate. Se questo fosse vero anche al di fuori di questo piccolo mare magnum che è il Mediterraneo sarebbe ancora più rilevante la faccenda. Quelli che vedete qua sono appunto degli esempi che vi dicono come il rapporto tra obbligazione e città fosse esplicito nelle fonti classiche che potremmo andare a leggere ad esempio in lingua sanscrita. Protego ergo obbligo latino lo trovate articolato con Kshetra, Kshatra, Danda e Via Vahara, termini tecnici che appartengono alla cultura giurisprudenziale della lingua sanscrita di cui la trattatistica ci porta testimonianza fino almeno dal IV secolo a.C. e che presenta già nel I secolo a.C. un enorme trattato di 2600 quartine in rima che fa tesoro della tradizione giurisprudenziale che ha fatto di questi indicatori i criteri logici dell'organizzazione dello Stato, dello Stato nel senso proprio topologico di un territorio circoscritto sul quale c'è una sovranità che esercita protezione sui sudditi. Queste parole Kshetra sta per campo, anche agricolo, Kshatra è un mutuato, Kshatra è colui che protegge, è la protezione, lo Kshatria è il protettore, è il guerriero, la triade di Dumesil ricordate tutti, il popolo indoeuropeo sarebbe diviso in tre, i sacerdoti dice Dumesil, i guerrieri e gli artigiani commercianti, i servi sono esclusi nella modellizzazione tripartita. Ma questi termini sono chiaramente allineati e vedete danda, danda, danda è bastone, in sanscrito dantia sono le dentali, quindi sentite chiarissimamente il rapporto tra bastone, i denti sono dritti, danda, quindi campo, protezione, bastone, via vahara, commercio, negoziato, transazione, operazione di scambio, logica del valore e del plusvalore. Le città di cui abbiamo testimonianza archeologica a partire dai primi insediamenti intorno al 2500 a.C. nella Valle dell'Indo, celebre valle non popolata da enormi reticoli urbani, ci sono un centinaio di insediamenti urbani su quella valle, è uno dei più grossi insediamenti della storia dell'umanità che conosciamo, la Valle dell'Indo, le città hanno fortificazioni, le città hanno sistemi di protezione, le città si distinguono per modi di proteggere i propri sudditi. Quindi la città, la polis, è il luogo dove governando qualcuno, proteggendolo, si può esigere da costui tassazione. Niente di strano da questo punto di vista, no? è stranoto. Abbiamo poi tanti studi che negli ultimi anni ci dicono che non si tratta solo di città, ma si tratta di città fortificate. L'ultimo studio che vedete sulla vostra destra è del defunto collega Schlingloff che per tutta la vita si è dedicato da grande classicista a ricostruire tramite epigrafi e archeologia la forma dell'urbe della Valle dell'Indo e poi della piana gangetica. Quindi c'è un'enorme letteratura che ci dice che in quest'area geografica c'è stato, no? Un impero. Un impero che si disseminava attraverso dei sistemi di protezione che venivano appunto chiamati città, all'interno dei quali era reso possibile lo scambio via Vahara. Questo è attestato in tutte le fonti che conosciamo, ma siccome non ho quasi più tempo, vado subito al caso che mi interessa, che è appunto questo darvi misura di come il proteggo ergo obbligo di memoria latina e quindi di pertinenza del Mediterraneo fosse anche il cogito ergo sum di questi ambienti, di cui il nostro Ascioca sarà poi il succedaneo. Quindi vi sto facendo un piccolo preliminare per dirvi come mai Ascioca, il sovrano di cui andiamo a parlare con gli editti in questione, stava rispondendo a una logica delle cose che sembra inscritta nel ventre molle del vivente e non specifica caratteristica di un particolare luogo in un particolare tempo. Questo è il manoscritto conservato ad Oxford, gelosamente, alla Broaddian Library, del testo sanscrito che si fece redigere appositamente, William Jones, che è il traduttore, il primo traduttore in una lingua europea, in lingua inglese, del famoso trattato, che ha letto anche Nietzsche, del trattato sulla norma di Manu, le leggi di Manu, un gigantesco trattato in sanscrito, appunto ve lo citavo prima, di oltre 2000 quartine, in cui Jones si fa fare un manoscritto interlineare, vedete che ha una linea sì e una linea no, perché inizia a tradurlo viene pubblicato nel 1792, è una delle prime traduzioni dal sanscrito che abbiamo in lingue europee, per mano di William Jones, padre di un'orientalistica nascente che lavora presso la East India Company in India. Questo manoscritto, se lo andate a vedere a Oxford, è straordinario perché vedete che William Jones, che ha un ottimo persiano al tempo, inizia a tradurre dal sanscrito nella linea intermedia in persiano e poi lo versa in latino e a circa metà del manoscritto ormai il persiano è scomparso, c'è solo il latino ed è copiosamente sostituito dall'inglese. In altri termini, nell'arco di traduzione di questo testo, William Jones abbandona il medio che aveva per leggere il sanscrito, che era il persiano, riversa direttamente in latino dal sanscrito e poi alla fine del trattato lui va direttamente dal sanscrito all'inglese. Quindi vedete che c'è una continuità che Jones vede chiara e tonda, al punto che progressivamente abbandona gli stadi della mediazione linguistica che gli servivano per entrare in relazione al testo sanscrito, che ha un intero capitolo sul rapporto tra sovrano e suddito nei termini della protezione. Quindi una trattatistica in rima, che ormai è oggetto di produzione presso le corti, la trattatistica giuridica precedente non è in rima ma è in prosa e quindi è dedicata ai giurisperiti, agli specialisti, qui siamo di fronte a un trattato in rima che pare essere stato appunto commissionato da una corte per rendere palese agli ufficiali di corte che cosa va detto ai principi che loro vanno formando. Si parla appunto di campo, di delimitazione del campo e anche di tutte le faccende, non diversamente da quello che ci farà vedere nell'atto il nostro Asciocca. Questa è la copertina del libro di cui vi facevo menzione all'inizio, questo appunto Asciocca, vedete un ritratto di un re filosofo e qui vedete immediatamente si aprono pagine di comparazione. Sta parlando di Marco Aurelio? È del medesimo registro? Siamo di fronte a un sovrano che oltre a governare ha anche una lungimiranza tale da pensare al bene del popolo? In che termini Asciocca è un sovrano giusto? Questo libro di Patrick Olivelle che appunto è uscito quest'estate, questa è la versione indiana e ne uscirà una versione più estesa per Princeton all'inizio dell'anno 2024, era stato preceduto da un altro suo studio che vedete più o meno questo qui, Reimagining Asciocca, oppure l'altro studio Searching for Asciocca, cioè la storia della ricezione del modello di stato, di governo politico del territorio diffusosi da questo Asciocca che vive tra, diciamo, regna tra il 260 e il 230 avanti Cristo, nella piana del Gange, quindi nell'area centrale, la più fertile, la più ricca zona dell'India del Nord e vedete il libro laggiù sulla vostra destra in alto Il ritorno del Buddha, Ancient Symbols for a New Nation, è uno studio importante della collega Imam Suprabaharai, una storica dell'antichità indiana che appunto fa vedere quanta attualità abbia l'immaginario della figura di Asciocca di tradizione buddista per lo stato moderno indiano post indipendenza dal 1947 in poi. Quindi vedete là, laggiù, la figura di Asciocca non è affatto dimenticata ma partecipa vivamente del dibattito sull'organizzazione della forma dello stato moderno, cosa che a noi non fa nessun problema nel riconoscere quando si parla di Cicerone oppure di Hobbes, oppure per noi non c'è nessun problema nell'immaginare la continuità tra il modello di stato che ci è stato trasmesso dal mondo greco al mondo latino fino ai nostri giorni, no? Parimenti di là dalle Eufrate ci si muove con tutta disinvoltura, si ne cura, questo passato, questo presente sono legati. Ma veniamo al nostro Asciocca di cui vorrei darvi una piccola testimonianza. Intanto la parola che ho messo nel titolo, nel descrittore interno del paragrafo, no? Questa parola Chakra Vartin. Chakra Vartin, chakra è un termine ordinario, si dice, si usa per indicare la ruota di un carro, quindi non ha niente di particolarmente esoterico, sebbene i chakra siano diventati oggetto di una certa letteratura esoterista di fine ottocento, occultista di inizio novecento, teosofica di inizio novecento, dove i chakra, no? Sono questa specie di luoghi dell'energia corporea dai quali si entra in contatto con il macrocosmo, insomma, faccende complicate. Qui si sta parlando della banale ruota. Il sovrano, Asciocca, è colui, chi è il sovrano? È colui che fa andare la ruota, fa girare la ruota. E che cosa significa questa rappresentazione? Vi porto due testimonianze che sono legate alla figura del Buddha. Il Buddha, che il Buddha storico probabilmente è di almeno duecentocinquanta anni prima di Asciocca, Asciocca dirà di essere un seguace della parola del Buddha dopo un certo momento della sua carriera politica, però mutua l'immagine del Chakravartin da un antico immaginario che era già stato abbinato al Buddha. Quindi in altri termini il Buddha è già un Chakravartin 250 anni prima di Asciocca. Quindi l'immagine di colui che varta, varta dal tema radicale vrti, vortex, andare, procedere, incedere, Chakravartin è colui che fa procedere la ruota del regno. La fa procedere perché riesce a impedire ai bastoni d'anda degli avversari di fermarla. Quindi il poter far andare la ruota del sovrano che fa andare la ruota è il potere di impedire ad altri di fermarla. Vedete, è un'immagine tutt'altro che ecumenica e tutt'altro che irenica, ma sta a indicare Chakravartin, colui che ha la forza di impedire a qualcuno di fermare il procedere del suo regno. Quindi, vedete, è un titolo, è un appellativo, ma è un appellativo onorifico che glorifica la forza di colui che non conosce avversari. Se andate a vedere la nomenclatura dei sovrani del tempo, del V secolo, IV secolo avanti Cristo, è alcuni di questi si chiamano Ajata Shatru, che potrà sembrarvi esotico, ma in sanscrito significa colui il cui nemico non è ancora mai nato. Pensate, è un'immagine inquietante, non è un'immagine rassicurante avere come sovrano colui il cui nemico non è ancora nato. Questa immagine, appunto, è l'immagine che voi trovate a un certo punto abbinata alla figura del sovrano Ashoka, che diventerà oggetto anche di una storia della ricezione enorme. Quello là è una monografia nel 2016 di colleghi che vanno a vedere come questa ruota del Dharma è diventato un modello rappresentativo per la sovranità anche nella Cina classica. C'è un sentire chiaro davanti all'immagine del colui che fa girare la ruota del carro. Il carro, naturalmente, è l'impero, sottointeso, è Rastra, il luogo protetto. Quindi questo luogo protetto immaginantelo come un caravan serraio, grazie al quale quelli che sono all'interno possono dormire una notte in pace, protetti da qualcuno che fa la guardia di notte. Estendetelo a territori enormi. Il territorio è enorme nella misura in cui noi troviamo, da un punto di vista archeologico, i ditti sparpagliati per tutta l'India, quindi i ditti attribuiti al sovrano Ashoka, addirittura abbiamo i ditti in doppia lingua, in aramaico, in greco, che parlano sul versante del confine indiano che volge verso occidente e parlano in doppia lingua di quale norma, di quale nomos, di quale Dharma c'è di qua dal confine. Cosa incontra chi entra dall'odierno Afghanistan nella valle indiana in termini di governo del regno? E vedete queste sono due mappe che vi danno la misura. Il territorio di Ashoka è un territorio, un quadrilatero enorme, che va dall'odierno piana, dall'odierna catena himalayana, arriva fino alle colline del Vindia, sono quasi 2.500 chilometri di altezza, e 3.000 chilometri di estensione in orizzontale, cioè dall'odierno Afghanistan fino al golfo del Bengala. Solcato, questo impero enorme, da uno dei più grossi canali di comunicazione, che è il fiume Gange, fertilissimo, doppio raccolto, dove ci sono, sappiamo, da Ariano, attorno alle coste del Gange, dice Ariano, ci sono talmente tante città, dice lui, che io non riesco a contarle. Quindi pensate, stiamo parlando di una civiltà metropolitana, che ha grandi canali di comunicazione e un enorme, un enorme surplus economico. C'è tanto, dunque, a dire, c'è tanto qui da proteggere. Infatti questi ditti li trovate in vari formati, disseminati appunto ai quattro lati del quadrilatero indiano, e negli ditti, questi sono alcuni esempi di questi ditti, li trovate appunto o su roccia o su colonna, e mi interessa il fatto che siano perimetranti. Sono i ditti che annunciano la presenza del Chakravartin a partire da quel punto in avanti a chi entra e a chi esce dal regno. Sul portato politico di questi ditti è stato scritto, potete immaginare, tantissimo, ma in questo momento io soprassiedo e vado a darvi un piccolo esempio di questi ditti. Eccolo qua. La stringa in Italia, ve lo leggo, ve lo leggo. Sono un corpo di ditti abbastanza ampio, alcuni ditti esistono in più versioni, quindi la stessa cosa viene detta in più versioni in territori diversi e ci sono delle sensibili variazioni di collocazione, quindi sta parlando con persone diverse, si è molto discusso se ci fosse una cancelleria centrale che emanava gli ditti e poi faceva gli adattamenti nelle varie lingue o nelle varie territorialità, ma questo a voi interessa fino a un certo punto. Questo farebbe parte della parte del retore pagato stipendialmente per darvi tutti i dettagli di quali cancellerii hanno emesso, quali varianti, di quale ditto, ma a me interessa farvi notare che qui si sta parlando di protego ergo obbligo. Nell'ottavo anno di regno il re Pia Dassi, caro agli dèi, sto leggendo la traduzione di Pugliese Carratelli per Adelfi che è ancora in commercio ed è ancora la signora traduzione. Nell'ottavo anno di regno il re Pia Dassi, caro agli dèi, ha conquistato il paese del Kalinga. Il Kalinga è l'odierno Orissa, quindi è la propaggine estrema del regno ad oriente, lì finisce l'ecumene, direbbero i geografi greci, lì finisce l'ecumene. Quindi ha esteso dal centro nord fino alle remote coste orientali il suo regno. Il Kalinga finisce appunto sul golfo del Bengala. Di là furono deportate centocinquantamila persone, centomila furono uccise, molte centinaia di migliaia perirono. E qui, capite bene, avete davanti un editto che per mano del sovrano annuncia fatti a chi legge l'editto che sono ormai passati. Perché il sovrano ha così tanta premura nel ricordare al lettore dell'editto? Sappiamo che questi ditti potevano anche essere usati con una specie di religione civile, recitati da dei banaca, da dei recitatori. Perché non sappiamo se chi quanti fossero in grado di leggere l'editto. Quindi immaginatevi anche una specie di liturgia del fine settimana, dove c'è un emissario della corte che viene e recita l'editto per far memoria, no? Scripta, manent, verba volant, questa è la relazione. Sarebbero svaniti nel tempo se non fossero stati scritti su pietra, ma sarebbero anche svaniti nel tempo se non fossero stati recitati agli orecchi dei cittadini che di generazione e di generazione si avvicendavano in quel territorio. Quindi vedete, disporre un editto può anche significare disporre un megafono che amplifica le parole di un sovrano che ormai non c'è più. Perché il sovrano ha tanta premura nel ricordare ai suoi ascoltatori che lui fu in grado di conquistare quel territorio, che lui fu in grado di uccidere, che lui fu in grado di deportare e che lui fu in grado di compiere questo gesto? Quasi a dire sono in grado di farlo ancora? Quindi, capite, c'è una strana possibilità di lettura di un editto come questo che va avanti e dice Ora che il paese del Kalinga è assoggettato, il re attende con fervore alla pratica della pietà. Questa è la traduzione di Cugliese Carratelli del termine Dharma perché nell'editto in greco c'è Eusebeia. Quindi, siccome in greco gli stessi traduttori degli editti al tempo di Ascioca rendono Dharma con Eusebeia, dice Cugliese Carratelli il sovrano si è votato, dopo il massacro, la conquista e lo sterminio, si è votato alla coltivazione della pietas. È diventato pietoso. Prima, infatti sappiamo dalle fonti buddiste che parlano molto male di questo sovrano Ascioca, Ascioca, prima di incontrare il Dharma del Buddha, la parola del Buddha, l'insegnamento del Buddha, aveva un altro nome, si chiamava Chanda Ascioca, cioè Ascioca il crudele. Dopo che ha incontrato le parole del Buddha, e questo incontro con le parole del Buddha accade dopo lo sterminio e la conquista del Kalinga, lui diventa Dhamma Ascioca, Ascioca il Pio. Vedete, la conversione, che ci ricorda tante conversioni di area mediterranea, è una conversione post bellum e in nome della pietas. Ora che il paese del Kalinga è soggettato, il re attende con fervore, non è solo un devoto alla parola del Buddha, ma è un fervente devoto alla parola del Buddha, all'amore della pietà, all'insegnamento della pietà. Kalinga segue, ama e diffonde la parola del Buddha. Tale è la penitenza del re, caro agli dèi, per aver sottomesso il Kalinga. È un atto di espiazione quello che lui sta compiendo. Si pente e trova modo di espiare la colpa affidandosi con fervore alle parole del Buddha. Tale è la penitenza del re, caro agli dèi, per aver sottomesso il Kalinga, perché la conquista di un paese indipendente, questo è Carratelli negli anni Ottanta, se vi sembra attuale, è il problema della attualità della guerra. Non è inattuale, purtroppo. Ci sembra, e non è una traduzione anacronistica, non sta retroproiettando il presente sul passato. Un paese indipendente è strage, morte e cattività di uomini. E ciò è fonte di pena e deplorazione per il re, caro agli dèi. Che ciò ricada su tutti gli uomini è un pensiero tormentoso. Guru Matam. Guru, in sanscrito, vuol dire pesante. Guru Matam. È un pensiero pesante. È un fardello da portare per Ashoka. Il ricordo di cosa ha voluto dire conquistare quel territorio. Ora, qualunque sia stato, e anche cento e mille volte minore, il numero degli abitanti del paese del Kalinga, uccisi o periti o deportati, persiste l'angoscia. Vedete, vi ho rimesso ancora. Aja Guru Matam. Nel re, caro agli dèi. E se è stata fatta offesa, il re, caro agli dèi, pensa che egli debba sopportare il peso quanto è possibile. Anche delle genti che vivono in selve, nei domini del re, caro agli dèi, questi ha compassione e le tratta benevolmente. E anche a loro si è data notizia del pentimento e insieme del potere del re, caro agli dèi, affinché essi mostrino pentimento e non vengano sterminati. Vedete? È una strana forma di minaccia che passa dalla dichiarazione di protezione. Su questo editto ci sono state fatte tante, tante, tante analisi, perché appunto è un editto di straordinaria finezza politica. Dare notizia di una conquista per ammonire coloro che non sono ancora stati conquistati della possibile eventualità che questo accada. Su questo bisognerebbe spendere ancora del tempo che io non ho e non vorrei nemmeno prenderlo di più perché credo intanto di avervi già dato alcune ragioni per dubitare del fatto delle tre questioni, no? Perché dovremmo interessarci dei classici, perché poi dovremmo addirittura indagare la tenuta del distingo Oriente Occidente e tantomeno perché dovremmo interessarci dell'impero e cosa desueta tramontata non più presente. Questa attualizzazione di un inattuale episodio della storia indiana antica dovrebbe darvi la misura che questo lessico è un lessico che ancora forma i nostri modi dell'organizzazione della res pubblica. Se addirittura poi entrassimo nei dettagli, questa è la famosa edizione che abbiamo dal 1964 dell'editto bilingue. Nell'editto bilingue appunto il sopracitato Patrick Olivelle in ultima edizione del 2023 degli editti di Ascioca introduce una novità, non è mai stato notato da nessuno fino a negli studi, tenete conto gli editti di Ascioca sono studiati almeno dal 1840, quindi sono 200 anni che studiamo gli editti di Ascioca, anche perché è un documento di straordinaria importanza linguistica, di storia della lingua, anche di storia della lingua greca per esempio. Ma in questo ditto c'è appunto un modo di usare un traslato che sarebbe il sanscrito, quindi l'indoario, passanda, passanda, che lo vedete scritto lì, passanda. E Olivelle nota che questo passanda è usato per tradurre o traduce diatribe in greco. Cioè il sovrano è garante del buon svolgimento della diatriba, della discussione animata tra differenti componenti. Quindi i passandini, solitamente in sanscrito tradotto come gli offensori, se prendete i dizionari di fine ottocento, inizio novecento, passandini sono degli offensori, recano offesa, disturbano. Sembra che nell'editto il sovrano sia molto preoccupato dell'amministrazione, delle discussioni che all'interno del Soregno si vanno conducendo tra questi personaggi che espongono differenti tesi, non solo sulla natura delle cose, ma anche sulla natura del governo politico. Lui si erge ad arbitro di queste diatribe. Diventa il giudice di queste contese. Questo ditto è particolarmente importante perché è questo l'editto che ha fatto credere, a partire dal 1940, che il governo di Ascioca era un governo illuminato ed era un governo democratico ed era un governo dove c'era condivisione delle decisioni. Tenete conto, in questa vulgata c'è finito anche il premio Nobel Amartya Sen di Economia. In un suo libro del 2004, Amartya Sen dice se volete trovare un modello di democrazia antichissimo e forse precedente al mondo greco, dovete guardare al sovrano Ascioca perché nel suo regno c'era già una democrazia partecipativa. Queste sono più o meno le parole verbatim del libro di Amartya Sen. Purtroppo Amartya Sen ha letto questa cosa, purtroppo è stata anche rintracciata, ce l'ho, ho i riferimenti se qualcuno fosse interessato. Lui l'ha mutua da un libro di storia del mondo di Wells del 1912 dove Wells fa un ritratto un po' così romantico di un oriente fantastico e purtroppo l'adagio del paragrafo di Wells è decisamente simile all'adagio del paragrafo di Amartya Sen. Quindi io sto insinuando che il primo nome di Amartya Sen probabilmente non ha mai letto nessun altro libro di storia antica se non la vulgata di Wells del 1912. E su questo purtroppo non l'ho detto io che sono appunto un retore stipendiato ma ci sono gli studi che hanno rintracciato questa immagine romantica dell'India antica e in particolare di Ascioca che Amartya Sen divulga tenete conto questa è l'immagine di Wells del tollerante Ascioca è già nella bocca di Nehru negli anni a fine degli anni 40 quando l'India ottiene l'indipendenza e si cerca un nuovo modello di stato moderno per governare l'India non più coloniale Nehru che è il primo governante del nuovo stato tira fuori la figura di Ascioca e lì Verbatim cita Wells quindi non cita l'orientalista non cita lo storico non cita il classicista non cita l'archeologo ma cita il romanziere Wells è l'inventore degli handbook of cioè una svolta editoriale della manualistica d'inizio 900 in inglese Nehru legge quella frase e la fa diventare frase pubblica nei suoi discorsi al popolo indiano dopo il 47 quindi l'idea che Ascioca sia un sovrano giusto tollerante e democratico vedete è un'idea che è arrivata bella e buona e che però fa il paio con tante idee che abbiamo anche noi nel nostro passato di alcuni sovrani che erano e dovremmo riemulare il loro modello di governo dello stato vado di nuovo al questo è l'editto col bilingue che non ho il tempo di leggere ma è l'editto della conversione del sovrano il sovrano dopo aver compiuto la grande conquista militare di tutto l'ecumene la piana gangetica ormai è tutta conquistata non c'è più niente da conquistare si fa una specie di gesto un gesto catecontico il cateco nel potere che frena se stesso prima avido di territorio di ricchezza e di potere poi si placa attraverso un atto di contrizione è una macchina bellica che riposa in sanscrito abbiamo questa famosa coppia yoga kshema yoga è bardarsi per l'attacco kshema è il ritorno delle proprie fila dopo lo scontro questa è una è una diatesi è un cotensivo il governo politico implica prepararsi allestirsi bardarsi attaccare tornare riconciliarsi e riposarsi per il prossimo scontro è una ruota che deve andare a patto che nessuno la blocchi ma non posso qui si parla di intemperanza qui c'è un tema molto importante dell'intemperanza di alcune compagini che vivono nel regno quindi il re deve preoccuparsi dell'intemperanza di questi di questi abitanti del regno ma non posso su quello andare ancora avanti torno solo alla al congedo perché sono arrivato all'ora quindi torno ai vostri iniziali tre quesiti vi ho addossato vi ho imputato vi ho scaricato addosso abbiate pazienza l'ho fatto per questioni retoriche ma anche perché volevo non farvi solo perdere il tempo ma anche inquietarvi un po' perché dopo il pranzo questo non guasta aiuta senza altro l'attività l'attività digestiva i vostri tre quesiti perché mai dovremmo occuparci dei classici perché mai dovremmo guardare oriente occidente perché mai dovremmo ritornare a mettere in questione la l'attualità dell'impero l'attualità dell'impero e sotto intendendo che questa attualità dell'impero è a noi oggi tangibile nella forma nelle varie nella metamorfosi nella metamorfosi continua dello stesso principio proteggo ergo obbligo perché Carl Schmitt indicava che questo principio enunciato dall'Obs seicentesco era ancora attuale come cogito ergo sum dello Stato negli anni 50 del 900 qui da noi quindi quei tre quesiti appunto volevano trovare una risposta la mia provocazione era questa se è vero allora quello che ha detto il reatore stipendiato che sono io che l'attuale agnosia collettiva cioè l'impero non ci riguarda più la diatriba oriente occidente non ci riguarda più e tantomeno ci riguardano i classici che ce ne parlano se questa attuale agnosia collettiva circa l'inattualità dell'impero fosse davvero frutto del comune oblio della sua imperitura attualità storica tanto a occidente quanto a oriente beh allora ci sarebbe una bella ci sarebbero parecchie ragioni per tornare a leggere di imperium in latino in greco in sanscrito in arabo in ebraico eccetera 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 perché se questa attualità è ancora tale se questa attualità è ancora tale è questa cinquieta se non è ancora tale possiamo dormire sonni tranquilli e con questo appunto vi lascio col congedo che dovrebbe a questo punto suonare così e scusatemi se plagio un andaggio che viene da altri ambienti no l'attualità dell'impero sia con voi no e col vostro spirito se riuscite e se riuscite scambiatevi segnali non scambiatevi segnali di guerra grazie grazie